Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A11 un chilometro di coda tra il Bivio per l'A1 e Prato Est in direzione Pisa a causa di un incidente. Sulla A1 rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud per un veicolo in avaria in direzione Bologna. Sulla Fipili possibili disagi per lavori tra Ginestra, Fiorentina e Lastra Assigna. Sulla Statale 1 Aurelia per lavori tra Follonica Nord e Follonica Est, scambio di carreggiata. Chiusura dello svincolo di Follonica Nord in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento a 1 di Firenze in prunita. Sulla Statale 12 della Betone e del Brennero, chiuso il tratto tra Borgo Ammozzano e Bagni di Lucca. Può aversi in Toscana un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!